Siamo contrari alla scelta di aver invitato e chiesto di intervenire a Gironi al mosso di presso di la società. Siamo contrari alla scelta di aver scelta, avevamo due scelte, avevamo contestato e fischiarle, però gli avremmo regalato l'argomento che prima la sigilla le ha invita e poi la protesta. Quindi abbiamo scelto che in quanto... E se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi sempre dire che seppeggire la sua montagna, bella ciao, bella ciao. Ciao, bella ciao, 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 ciao. E se io muoio da partigiano, sono colomba di un pezzo.